Ciao mamma, come stai mamma? Tutto bene? La gioia di incontrarsi di nuovo faccia a faccia dopo quattro mesi di lontananza e paura. Le case di riposo dell'Emilia Romagna riaprono le porte alle visite dei parenti e l'emozione è difficile da trattenere. Lunedì è il mio compleanno, mi ha fatto un grande regalo mamma. È contenta che può vedere sua figlia oggi? Sì, sì, contentissimo. I parenti fanno la fila per vedere i loro anziani, l'attesa è tanta. Sei felice che vedi la tua figlia oggi? Sì, non pensavo mai. Non pensavi mai? Finalmente è arrivato il giorno, hai visto? No, finalmente è arrivato. Io aspetto. Perfetto. Misurazione della temperatura, mascherina, percorsi e distanze di sicurezza, un protocollo minuzioso che non toglie la gioia dell'incontro. Ciao mamma, come stai? Misurazione, come stai te? 44 gli ospiti della casa di riposo meridiana di Cesena. Qui il Covid non è entrato grazie alla decisione di blindare la struttura a inizio marzo. Una scelta dolorosa ma necessaria. Rivedere gli incontri dei figli con i propri genitori è stato... è un momento davvero emozionante. Perfetto. Perfetto.